Per comprendere appieno l'utilità di questo tipo di studio occorre rispondere a questa domanda Quando usare lo studio progettuale? Ebbene quando le dimensioni del modello, i materiali, i parametri motore o di forza possono essere considerati come variabili di progetto e in output andiamo a leggere le grandezze di nostro interesse Di fatto questo tipo di studio ci consente di rispondere alla domanda What if? Ovvero che cosa succede se... Ad esempio, cosa succede se vario la rigidezza delle molle alla base di questo setaccio mantenendo invariate le dimensioni e la massa eccentrica? Ecco che in output andrò a leggere e confrontare i risultati tra i vari scenari Quindi con le differenti rigidezze delle molle E andrò a leggere che cosa, ad esempio, risultati di mio interesse potrebbero essere il massimo spostamento o il transitorio in termini di frequenza Cosa occorre per definire questo tipo di studio? Tre cose Variabili, vincoli e degli studi esistenti a cui fare riferimento Ecco, una precisazione importante Le variabili di progetto in motion così come in simulation si impostano mediante i parametri all'interno di SOLIDWORKS Mentre i vincoli, chiaramente di progetto, mediante i sensori Vediamo un po' cosa si intende per parametri e sensori I parametri si riferiscono alle variabili di cui si può controllare il valore E come puoi vedere esiste un'interfaccia apposita in cui definirli Mentre i sensori consentono di monitorare le proprietà di interesse I nostri vincoli per intenderci Come ad esempio valutare il valore della forza di contatto tra due componenti Approfondiamo le variabili Esse sono rappresentate dalle quote del modello, dai materiali libreria Ma anche il valore della velocità di rotazione di un motore O il valore di una forza che rappresenta un carico concentrato in motion Può considerarsi una variabile Per ciascuna variabile occorrerà definire il range di valori Per intenderci da questo valore a questo valore A cui si dovrà assegnare il passo di variazione Oppure indicare direttamente i valori discreti Cosa voglio dire? Che se tra le variabili vi è lo spessore di una lamiera Vado ad impostare direttamente gli spessori che ho in magazzino Quelli che il mio fornitore è in grado di farmi avere Questo per evitare di scegliere uno spessore che di fatto è impossibile da reperire Cosa importante Occorre sempre verificare che le variabili non entrino in conflitto Facendo bloccare il calcolo in quanto il modello CAD diviene corrotto Oppure fornendo dei risultati errati In ultimo possiamo definire sino a 25 variabili di progetto Passando ai vincoli Ti ho già accennato che rappresentano la condizione che deve essere soddisfatta Tipico dell'analisi di ottimizzazione O semplicemente monitorata Che di fatto è quello che impostiamo in uno studio progettuale In cui siamo interessati a valutare delle variabili di progetto E come queste variabili di progetto impattano sui risultati Quindi andare a leggere ad esempio il massimo valore di forza di reazione Che registra un accoppiamento della parte nei vari scenari di progetto Vincoli che sono sempre associati a degli studi esistenti Questo perché l'interfaccia degli scenari progettuali Si occupa soltanto di raccogliere le variabili con i suoi valori e i vincoli Quindi per ogni variante progettuale deve esistere uno o più studi di riferimento Già impostati e nei quali Motion in automatico andrà ad apportare le modifiche E seguire il calcolo per poi fornirci i valori di interesse E questa cosa la fa per ciascuna variante progettuale Nella maggior parte dei casi è sufficiente impostare un singolo studio di riferimento E questo è sempre vero per le varianti di progetto Di cui ci occupiamo in questa lezione Ma potremmo avere la necessità di ottimizzare un'attrezzatura Per movimentare dei carichi Pertanto avere uno studio in cui simuliamo il sollevamento di un componente in verticale Un secondo studio in cui simuliamo lo stesso componente che viene trascinato E un terzo studio in cui il componente viene trascinato con condizioni di attrito attivo Ecco che se sono interessato a minimizzare il valore della coppia motore nelle tre operazioni Variando la geometria di questa attrezzatura Ho bisogno di due o più studi di riferimento Pensa che possiamo definire sino a 60 vincoli Dicevamo vincoli che vanno a leggere i valori di interesse dallo studio o dagli studi esistenti Infatti quando andremo ad impostare i sensori con cui prelevare questi valori Troviamo anche la tipologia dati movimento E per poterlo definire ci richiede di selezionare dal menu a tendina lo studio già presente nel file E ti dirò di più, nel terzo menu a tendina potremo selezionare soltanto quei risultati Che sono stati creati e già disponibili nello studio di riferimento Quindi quando dobbiamo eseguire uno studio con varianti di progetto O uno studio di ottimizzazione in motion Non solo dobbiamo avere uno o più studi motion già definiti Ma aver creato anche risultati che ci interessa impostare come sensore In sintesi abbiamo bisogno di tre cose per questo tipo di studio Le variabili e lo facciamo per mezzo dei parametri I vincoli e li impostiamo mediante i sensori E gli studi motion precedentemente impostati Grazie a tutti